Mentre anziani di Fontana San Nicola, Torelli di Mercogliano, tendono la mano al loro piccolino, dalle istituzioni non si registrano particolari contributi. Eppure Causo Auture, almeno da tre settimane, vive in un giaciglio ricavato nel locale interrato della sorgente, curato amorevolmente solo dalle anziane del posto che gli portano quotidianamente cibo e indumenti. Gli abitanti della contrada temono per la salute dei giovani migranti, in evidente stato confusionale fisicamente provato. Ha negli occhi ancora le tracce indelebili del tragico naufragio da cui è riuscito miracolosamente a salvarsi. Le donne, che hanno preso a cuore piccolino, così come lo chiamano, chiedono alle istituzioni di mobilitarsi per tentare di assicurare le cure necessarie a Causo. Con il trascorrere dei giorni, infatti, le condizioni del ragazzo diventano sempre più precarie. Sulle colonne del mattino l'assessore alle politiche sociali del comune di Mercogliano, Giacomo Dello Russo, ha promesso di approfondire presto una vicenda che sembra essere sfuggita persino alla prefettura. Causo non può resistere a freddo nella caverna sotto la fontana. Va curato a più presto, ribadisce un giovane migrante conosciuto con il nome di Rast per i suoi capelli Rasta, ospite del centro di accoglienza situato a Torelli di Mercogliano. Causo stava con noi prima, prima in 2014 fino a 2017. Mo è avuto premesso soggiorno, documento di due anni, in 2017. Poi è lasciato il campo. Poi stava lavorando con un signore e poi ha fatto un anno, forse sei mesi con lui, però senza pagarlo. Poi è andato da Avellino, sta lavorando là con gli altri avellinesi. Però ho trovato questo problema là. Poi è venuto da noi qua. Quando è venuto da noi qua, io chiedo a lui, ma perché stai qua? Tu stai lavorando, perché stai qua in questo momento? Ha detto che no, ora non c'è lavoro, il patrone è andato a vacanza, quindi io devo riposare qua un poco. Però fra un settimana, due settimane l'ho visto. Lui come si comporta non sa bene. Perché fa freddo, piove. No, non come fa freddo, piove. Il problema è che la testa è uscita. Questo è il problema proprio di lui. Ha bisogno di aiuto. Ha bisogno di aiuto. Quando io ho visto questo problema, lui come sta andando non sa bene. Abbiamo fatto tante le cose, però lui non vuole andare. Quindi pure noi abbiamo chiamato i carabinieri per dare la mano, per l'aiuto. Però loro hanno detto che non posso fare nulla, tanto che lui non vuole andare, loro non vogliono fare per forza.